Dal 26 al 29 di ottobre si sono svolte a Torino le giornate del Premio Morione, laboratorio di giornalismo investigativo dove gli under 30 hanno avuto la possibilità di realizzare le loro inchieste grazie al sostegno di tutor esperti. I progetti finalisti, a cui sono stati assegnati 4.000 euro ciascuno per la realizzazione, sono stati in tutto 5. Vi raccontiamo il progetto sulla loro pelle appartenente alla categoria video inchiesta realizzato da Marika Iconomu, Alessandro Leone e Simone Manda che ha vinto l'undicesima edizione del Premio Morione. L'inchiesta affronta le problematiche del sistema dei CPR, i luoghi di detenzione amministrativa per le persone migranti destinate al rimpatrio e mostra come società civili e associazioni abbiano denunciato ripetutamente le violazioni dei diritti umani che avvengono al loro interno. Ascoltiamo ora le parole di Alessandro Leone nell'intervista. Qual è stato l'impulso che vi ha portato a scegliere il tema dell'inchiesta? Allora noi abbiamo trattato i CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio e sono diciamo alquanto sconosciuti all'opinione pubblica. Tutto quello che si conosce sui CPR ha molto a che fare con report, con documenti, però c'è veramente poco divisivo, poco viene restituito di quello che succede all'interno e allora noi abbiamo voluto trattare questo tema perché di fatto si tratta di un servizio che viene appaltato a delle società private che riducono al midollo, riducono proprio all'osso i servizi per aumentare il livello di profitto e siccome avviene ogni giorno una violazione sistematica di diritti e le condizioni interne sono disastrose se volevamo puntare e cercare di denunciare quello che avviene all'interno. Certo, e qual è la realtà che emerge dalla vostra inchiesta? Emerge una realtà di violazione di diritti e soprattutto una realtà che è molto peggio di quella che sembra perché di fatti i CPR sono dei centri di detenzione amministrativa quindi vengono rinchiuse lì dentro le persone straniere in attesa del rimpatrio, quindi sono centri dove finiscono persone che di fatto non hanno fatto nulla, non hanno commesso alcun crimine, semplicemente non hanno magari un documento, un permesso di soggiorno e quindi in realtà emerge una realtà che è molto peggio di quella di un carcere e almeno questo è quello che ci hanno detto tutte le persone che sono state sia all'interno del CPR sia all'interno del carcere perché non esistono le stesse tutele essendo appunto in mano a delle cooperative private e a delle multinazionali ed emerge di fatto anche un sistema di commistione di accordi diciamo tra la prefettura, quindi tra lo Stato da una parte e le cooperative delle multinazionali che gestiscono questi centri, come è emerso per esempio da alcune intercettazioni a cui noi abbiamo avuto accesso dove una prefettura avvisa una delle cooperative di cui abbiamo trattato prima di ogni ispezione, anzi decide con la stessa cooperativa data e orario dell'ispezione, quindi è un sistema che continua ad andare avanti grazie alla sua opacità però nonostante tutto siamo riusciti ad entrare a documentare quello che accade all'interno. Certo e quali sono state le principali difficoltà che avete riscontrato durante l'inchiesta? Le difficoltà hanno a che fare soprattutto con il fatto che è veramente difficile sia per i giornalisti che per la società civile, le ONG entrare all'interno di queste strutture, molto spesso quando viene concesso l'accesso si limita ai corridoi, non si può entrare nei bracci, non si può parlare per esempio con le persone trattenute, noi abbiamo fatto svariate richieste alle prefetture anche come video giornalisti quindi per riprendere via video quello che accade all'interno non c'è stato concesso ovviamente il permesso di farlo e allora siamo entrati con le telecamere nascosse per riuscire a restituire, dato che sono immagini di interesse pubblico, quello che accade all'interno. Quindi questa è la principale difficoltà. Alla fine di svariate richieste, di decine di richieste siamo riusciti ad entrare in alcuni di questi CPR però ci è voluto davvero tanto tempo perché quando ci hanno annunciato il fatto che eravamo finalisti di questa inchiesta abbiamo immediatamente fatto la richiesta d'accesso e ci hanno risposto dopo mesi, quindi il nostro ingresso all'interno dei CPR è avvenuto di fatto nella fase finale dell'inchiesta.